Allora, eccoci qua, siamo all'ultimo piano della stazione, questa è la torre di Tokyo e adesso zoom un po' indietro e vi faccio vedere la stazione dall'alto qua è molto bello, c'è questa specie di gradinata che sembra quasi un anfiteatro, non so se si capisce dal video ma immagino che di giorno ci sia pieno di gente qua che si siede a bere, non so, a chiacchierare e poi la stazione è qua, è molto molto profonda, infatti ho dovuto salire mi pare una decina di piani per arrivare fin qua e così, adesso faccio un paio di foto, vediamo se c'è qualche cos'altro poi da vedere